Ciao ragazze, allora oggi farò un video nail art e vi farò vedere, ma è un nail art semplicissimo, ma è un solo smalto questo qui, se lo vedete si, è un solo smalto quindi, è super semplicissimo. Allora, io ho levato lo smalto dalle mie unghie, le ho limate tonde, sono circolari, tonde le ho limate, ora andrò ad applicare il mio smalto. E' un po' il nome strano che fa? Scusi, scusi. E' semplicissimo nail art, andremo a mettere lo smalto nelle altre unghie. Ecco la seconda unghia, le ho limate più corte stavolta perché le unghie non mi piacevano, non so fare le cose a dovere con le unghie. Ecco, forse adesso mi sentirete meglio, mi sentirete meglio perché era un po' bassino il volume. Allora, vi dico quello che ho detto all'inizio, che questa sarà una nail art molto semplice perché è un solo colore. ecco la terza unghia. ecco la terza unghia. ecco la terza unghia. Ora applicherò la quarta. quarta unghia. l'ho. Spero che la vedete. ora andrà a pegarla sul mindolo. potete decidere di fare quante passate volete. ecco la terza unghia. ecco la terza unghia. ecco la terza unghia. ecco la terza unghia. ecco qui. questa è la... e la mia perla... e la mia perla... che una bucella qui. e mando un bacione. Ciao.